Conquistati 38 punti in classifica, la Vispesero vede virtualmente chiuso il primo obiettivo stagionale. A nove partite dalla fine del campionato e con 11 punti di vantaggio sulla zona play-out, i Biancorossi hanno seriamente ipotecato il discorso salvezza. Un risultato straordinario ottenuto già a febbraio in netta discontinuità con le ultime stagioni in affanno. Ipoteca salvezza che arriva grazie ad una delle migliori prestazioni stagionali valse la vittoria 2-1 contro l'Entella, quarta forza del torneo. Prova di qualità e di carattere della Vis, che va sotto nel punteggio dopo 10 minuti su calcio d'angolo monetizzato da testa da Coppolaro, ma gioca un signor secondo tempo che vale la rimonta grazie alle reti di Marcandella e Cannavò. I giocatori sono stati fantastici, soprattutto nel credere a quello che poteva essere l'evoluzione e poi il finale della partita perché era chiaro che non volevano perdere ma soprattutto che volevano, come hai detto tu, continuare a stare propositivi, attivi e convinti di quello che stanno facendo. Questo è sicuramente un aspetto che mi porta orgoglio. Salvezza ipotecata ma ora non ci si accontenta e si punta ai play-off. Parola di Capitan Gavazzi. Noi siamo una squadra che secondo me non può fare calcoli, non può fermarsi a guardare la classifica, come ho sempre detto. Siamo semplicemente una squadra che deve lavorare, che deve cercare di raccogliere il massimo da ogni partita e dopo a fine dell'anno faremo le nostre valutazioni, vedremo dove siamo arrivati. Però è una squadra nostra così giovane, così a tratti ma anche un po' inesperta che non può permettersi di far calcoli. Noi dobbiamo lavorare settimanalmente, cercare di raccogliere quello che possiamo tutte le domeniche senza far calcoli. Dopo tra un mese o un mese e mezzo vedremo. Bene la Vis, malissimo il Fano, sempre più risucchiato nella zona play-out della Serie D dopo la sconfitta 1-0 rimediata in casa del Matese. Domenica molto gratificante invece per la Fiorini Pesero Rugby che ritrova quella vittoria al Toti Patrignani che tra le mura amiche mancava dal periodo pre-pandemico. Vittoria importante e netta. Napoli viene domata 34-7. Da due anni che non vincevamo con casa, l'abbiamo parlato prima, era uno degli obiettivi vincere e preparare meglio la prossima partita. Quindi sono contento, abbiamo fatto tanti punti potevamo fare di più ma è andata così. Con questo vento non è mai semplice giocare e niente, abbiamo vinto bene, abbiamo fatto punti, abbiamo difeso tutta la partita bene salvo l'ultima occasione quindi sono soddisfatto. Qualche giorno prima aveva assaporato il gusto della vittoria ritrovata anche l'Ital Service che venerdì sera al Palafiera aveva battuto 2-1 la Camedosson con le reti di Taborda e Canal. Dal calcio 5 al volley la Megabox Vallefoglia orfana della capitana Cochleva, reduce dalla rottura del legamento crociato del ginocchio, lotta per 4-7 ma ad Urbino deve cedere 3-1 al Bisonte Firenze. Infine la VL che ha trascorso un altro weekend a braccia concerte per la sosta prolungata degli impegni della nazionale ma resta vigile sul mercato. Si cerca infatti il sostituto di Tyler Larson che si è appena accasato a Reggio Emilia.